Con la squadra come vedete è dalla sedicesima quindi ha fatto ventitresima, in otto giornate ha già fatto 1.085 di punti, cioè esagerato questo ragazzo uomo che mi pare che si chiama Tom con il suo socio che fanno le formazioni del super scudetto, eccezionali, eccezionali veramente loro due. Vabbè andiamo più nello specifico nella giornata che era la ventitresima, eccola qua, allora BVB Svissal che è la seconda squadra fa 135 punti e mezzo, sti gran cazzi, andiamo ad analizzare la formazione che ha fatto per fare quel punteggio. Allora, tanto come sempre lui ha delle mandracate, cioè proprio fa delle mandracate ragazzi, cioè mettere Danilo capitano e Danilo fa clean sheet e assist e gli prende 10 punti che per 2 perché l'ha messo capitano gli valgono 20 punti più il voto 6,5 e prende 26,5 con Danilo. Cioè, minchino ha tanto di cappello a BVB perché fa queste cose, perché io sinceramente già a mettere Danilo, però ci avevo pensato anch'io che qualcuno della difesa della Juve avrebbe fatto bene, infatti avevo messo quadrado, però ahimè quadrado, fatto schifo ed è entrato Danilo e ha fatto quello che doveva fare quadrado. Grazie.